Panseri, il suo balzo in avanti nel corso della stagione è stato spaventoso. Ha sofferto il passaggio da junior e sa senior, ma si è ambientato subito ascoltando i consigli di tutti e dando il massimo per sfatare il mito del giovane che si crede già un fenomeno. Under così, sono oro per il basket. Voto 9!